Ehi Orso Polare, io sono un imperatore! No, aspettate, ma che cos'è? Un troll? Forse devo camminare qui? No! Cosa devo fare? Aia! Aia! Basta, cazzo! Ah! Ah! Che dolore! Che dolore! Ma io odio il parkour! Figuratevi il parkour invisibile! Ricordatevi sempre la regola della destra! Attenzione, la pietra, in qualche modo, può ucciderti! Osa! Ciao a tutti ragazzi, sono Kendale e benvenuti in questo nuovissimo video di una mappa epica! Oggi ci troviamo in Minecraft in 520 secondi! Dobbiamo finire tutti i minigiochi che ci hanno costruito questi creatori di questa mappa epica in 520 secondi! Non so quanti sono i livelli, però credo che siano all'incirca 10 o sicuramente sono più di 5! Sono tanti ragazzi, quindi non abbiamo molto tempo per finirli tutti quanti dobbiamo essere veloci e per iniziare la mappa dobbiamo cliccare questo pulsante! Vediamo cosa ci aspetta! Io sono pronto! E voi siete pronti? Siete pronti a lasciare un bel mi piace per questo video epico? Direi che siete pronti e sicuramente molti di voi lo hanno già lasciato! Allora, dove mi trovo? Cosa dobbiamo fare? Devo... Devo aspettare probabilmente, sì, devo... Ok! Delle stanze completamente a caso si stanno generando, quindi i livelli ragazzi sono completamente tutti quanti a caso! Potrei capitare di fare lo stesso livello ben due volte di fila! Vediamo che cosa... Uh! Il primo livello ragazzi! Oh mio Dio! Il primo livello è un labirinto! Io vi ho insegnato bene tutti quanti che il labirinto si finisce tenendo sempre la destra, ma in questo caso no! Però ovviamente se trovate un vicolo cieco ragazzi dovete continuare ad andare a destra fino a quando invece non vi lascia camminare! Quindi continuiamo in questo modo, continuiamo con la destra ragazzi, tenete sempre la destra e riuscirete a finire tutti i labirinti del mondo! Se un giorno vi bloccherete in un labirinto vi assicuro che ce la farete! E guardate, la mia tattica sta già funzionando ragazzi! Siamo praticamente usciti! Manca pochi... No, ok, questo non va bene, non va per niente bene! Ce la facciamo, non vi preoccupate ragazzi! Ok, no, c'è un altro vicolo cieco, quindi torniamo indietro, andiamo di qua questa volta, poi continuiamo in questo modo... E dove sto andando? Non credo che io stia andando nella direzione giusta, giusto... No, sì invece! Sto andando nella direzione giusta, ok, in questo modo... E lì, lo stai per raggiungere, ok, ok, quindi manca veramente poco, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta... Sì! Siamo riusciti a completare il primo livello! Adesso che cosa devo fare? A meno che tu vuoi più di quattro orsi polari, spingire solo uno. Che vuol dire spingire solo uno? Allora, qua abbiamo un'armatura intera, devo combattere per caso... Stai scherzando, Billy? Io devo combattere... Oh mio Dio, ehm... Sono in un'arena da gladiatore e credo che io debba uccidere gli orsi polari! Ehi, orso polare, io sono un imperatore! Non puoi di certo farmi paura! Ok, l'ho finito, l'ho ucciso! No? Ok, forse li devo uccidere tutti? Oh mio Dio, aia, che male ragazzi! Che male che fa l'orso polare! Che cosa devo fare esattamente? Devo spingerli? Ma in che senso li devo spingere? Io li ammazzo! Forse non l'avete capito! Io li uccido tutti queste bestie! Muori anche tu! Ma ci sarà un modo per finire questa mappa? Ok, li abbiamo uccisi tutti e adesso? Oh mio Dio! No, 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 no! Ma cosa? Ma questo è TNT! Ma stai scherzando? Ok, ho distrutto tutto e mi ha portato alla fine! Oh mio Dio! Hai pensato che questo livello fosse figo? Sì, è stato veramente molto, molto figo! Ehm, ok, buona fortuna! Cosa devo fare qua esattamente? Come... come finisco questo livello? Ci sono delle leve! Devo entrare nelle stanze e sbloccare le leve? Come? Qualcuno me lo spie... Devo... forse devo raggiungere questa leva... Ok, l'ho raggiunta, bene! Abbiamo aperto il vetro, ottimo! Poi devo fare questo, presumo! No, quello non lo devo fare! E allora deve esserci un altro meccanismo qua dietro! Forse dobbiamo andare da questa parte! Che cos'è questo? Qua ci sono delle porte di ferro! Le porte di ferro non le posso aprire! Ragazzi, stiamo perdendo tantissimo tempo! Cosa? Leggi tutti i cartelli! Hai capito che questi cartelli non servono a molto! Ma come non servono a molto? Ok, saliamo dalle scale! Le scale non le posso aprire! Presumo che io debba utilizzare qualcosa per aprire! Bene, c'era una botola! Ho aperto la botola! E dove mi porterà la botola? Un altro labirinto! Quindi devo andare sempre a destra! Ma perché ci sono così tanti labirinti? Che mi hanno buttato... Oh, bene, bene ragazzi! Oh mio Dio! Abbiamo superato uno dei livelli! Ok! E adesso? Come? Ok, qua c'è un'altra entrata! Ottimo! Entrata che mi porterà? Se stai leggendo questo stai perdendo il tuo tempo! Come sto perdendo il mio tempo? Allora non è quella l'uscita sicuramente! Devo entrare qua dentro? No, qua non c'è niente! Non c'è assolutamente niente di niente! Devo uscire qua! Oh mio Dio! Ce l'ho fatta! Sì! Sono riuscito a completare il livello e sono anche morto! Cosa? Che vu... Ma... Sono tornato da capo! Perché? No, aspettate! Ma che cos'è? È un troll! Ma... Ragazzi! Avevo completato il livello! L'avete visto tutti quanti? Allora, questa è l'uscita! Bene! E se metto piede fuori, muoio? Ehm... Cosa devo fare? Forse devo camminare qui? No! Ma che cosa è questo? Ma poi perché torno indietro? Perché torno completamente da capo? E ora l'unico modo di uscire è andare qui! Ma se io cammino sull'erba muoio? Sì! Anche sull'erba muoio! No, vabbè ragazzi! Ma non è possibile! Ma così perdo la mappa e la devo fare da capo! Perché il creatore della mappa mi trolla! Ma non è giusto! Forse devo saltare sul vasetto? Dovevo saltare sul vasetto! Ok! E dopo devo saltare sulla botola? Per caso? Penso? E dai però! Ma non è giusto! Oh no ragazzi! Mancano soltanto 4 secondi! Ce la devo fare! Non è giusto! No! Ho perso! Non ci posso credere! Non sono arrivato a finire la mappa! E allora sapete che cosa ragazzi? Un imperatore non si arrende! Io lo faccio di nuovo! Sì! Ci riproviamo! Sperando di avere un po' più fortuna con i livelli! Sperando di trovare qualche livello un pochettino più facile! Perché questi che mi ha dato erano veramente super difficili! Ovviamente ragazzi vi sfido anche a voi a provare a fare questa mappa! Il link lo troverete qua sotto in descrizione per scaricarla! Perché è veramente super difficile! Ok! Cosa dobbiamo fare in questa... Oh mio dio! Devo scalare! Penso che io debba scalare tipo qualcosa! Giusto? Così! Poi qui! Bene! Poi qua non mi ci fa salire! Quindi presumo che io debba scendere! Sono sceso! Ottimo! E ci troviamo in questa specie di templio! E che devo fare io adesso? Ci sarà qualche pulsante? Qualche leva? Qualcosa che io debba... No! Devo continuare a fare parkour mi sa! Sì! Qualcosa mi dice che io devo continuare a fare parkour qua sopra e arrivare fino in cima! Giusto? Spero! Perché se non è così io mi... E ora? E adesso? Beh io sono in cima! Ah! Devo entrare qua dentro! Devo buttarmi! Ok! Livello completato! Qua c'è un altro parkour! Ovviamente! Perché ragazzi! La cosa più bella delle mappe di Minecraft è il parkour! Tutti i creatori delle mappe di Minecraft fanno sempre e solo i parkour! In continuazione! Parkour che io odio! Ok! Cioè... No! 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 Non ci posso credere! Sono caduto come un pollo! Ma si può cadere in quel modo stupido? Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! E otto! Perfetto! Abbiamo superato questo livello! Cosa devo fare? Stai scherzando? Devo uccidere questo mostro gigante? Ma è assurdo! Oh mio Dio! Oh mio Dio ragazzi! Non ci posso credere! Non ha neanche knockback! Questo mostro ha le hack! È un mostro con le hack! Dobbiamo scappare! Dobbiamo stare attenti! Ma lo dobbiamo uccidere! Perché se non riusciremo ad ucciderlo! Io non potrò completare questo livello e questa mappa! Muori mostro schifoso! Smettila di attaccarmi! Io sono il tuo imperatore! Non mi puoi attaccare con questa ferocia! Ok! L'abbiamo ucciso! E abbiamo superato il livello! Perfetto! Divertiti! Jimmy! Ma è... Cosa? Jimmy? Io non mi chiamo Jimmy! Che stai dicendo? Io mi chiamo Kendall! Oh mio Dio! Non mi direi che è un altro labirinto! Che cos'è? Devo salire sui cactus! Allora! Presumo che io debba salire sui cactus in questo modo! E fare parkour sui cactus! Giusto? No! Non è giusto! Non capisco! Ragazzi! Sono... Mi sono perso! Aia! Aia! Basta! Cazzo! Ah! Ah! Che dolore! Che dolore! Cosa devo fare? Qualcuno me lo spieghi per favore! Sono bloccato! Sono completamente bloccato! I cactus non si possono neanche rompere! Non credo che io dovevo finire in questa parte della mappa! Oh no! Ok! Posso uscire? È un cactus maze! Quindi... Ok! È un labirinto di cactus! Ricordate! Tenete sempre la destra ragazzi per vincere! Sempre la destra! Vai! Ce la stiamo facendo! Sto prendendo tantissimo danno! Sono pieno di spine! Tutto dosso! Aia! Che dolore! Ma sono tornato al punto di partenza! Mi prendi in giro? Sono... No! Non sono tornato al punto di... Sono tornato al punto di partenza? No! È più difficile! Ma c'è un checkpoint! Ok! Prendiamo il checkpoint! Ne sono molto contento! Quindi ora siamo usciti da qua! E esattamente cosa devo fare? Ok! Forse l'ho capito! Forse ora devo tornare indietro e fare il parkour in questo modo? Ma perché i livelli più difficili capitano a me? Ma non mi può capitare un livello di... Non lo so! Colore! Il colore giusto! Ecco cosa dovevo fare! Devo salire qua su! Perfetto! Poi qui! E poi credo sui cactus! Devo salire sui cactus! Sì! Devo salire sui cactus! Perfetto! E ora saliamo qua! Ce l'ho fatta! Non ci posso credere! Bene! Bene! Perfetto! Abbiamo finito il livello! Bene! Bene! No! Non l'abbiamo finito! C'è ancora un ultimo salto! E come faccio? Ah ma lol! Ma dai! Ma sto camminando sopra! Oh mio Dio! Mi ho trollato! Ok! Abbiamo finito il livello! Ti sei divertito? No! Non mi sono divertito! Sei cattivissimo! Che cosa dobbiamo fare qua? Ma... Cosa? Ok! Ci abbiamo delle canne da pesca! Bene! Ah! Oh mio Dio! Ho capito! Devo tirare quello? Fino alla fine della mappa? Mi devo tirare l'armor sender ragazzi sul ghiaccio? Non ci posso credere! Ah! Ma sono sui blocchi invisibili tra l'altro! Ok! Allora! Questo non dovrebbe essere tanto difficile! Ok! Sali! Sali qua sopra! Sali sulla pedana! Bene! Abbiamo finito il livello! E ora? Che è sta roba? Che devo fare? Cosa? Cos'è questo livello? Qua c'è dell'ossidiana! Qua c'è dell'acqua! Non c'è una cesta! Non c'è niente! Però là sopra c'è un blocco! Oh! Cosa? C'è un blocco invisibile! Ho capito! Devo fare parkour! Oh mio Dio! Devo fare il parkour invisibile! Ma io odio il parkour! Figuratevi il parkour invisibile! Quello è un salto da due! Oh no! No ragazzi! Non riuscirò mai a finire questo parkour in due minuti! Oh mio Dio! Come faremo? Come faremo ragazzi? Qualcuno mi dia la forza di finire questo parkour in soli due... Non ce la posso fare! Devo fare il giro! Sì! Devo fare tutto il giro nei blu sicuramente! Ok! Poi così... No! Ma non ci credo mai! Guardate! Sto andando verso l'infinito e oltre... Eh vabbè! Di nuovo! Sempre nello stesso salto di prima! Ma scherzi! Rip! Abbiamo perso! No! Io non mi arrendo! Io la continuo! Cercheremo di finire questa mappa! L'ultimo tentativo! Il terzo e ultimo tentativo! Questo video probabilmente sta durando veramente un'infinità! Siamo già arrivati a più di 25 minuti di registrazione! Spero soltanto di trovare dei livelli più facili questa volta! Non... Scherzi! Cioè... Prendi in giro! Il primo livello è il parkour quello che non riesco a completare? Veramente dici ora? Cioè io ora dovrei chiudere questo video arrabbiato e basta! Ecco cosa dovrei fare adesso! Dovrei chiudere il video però visto che so se non altro come si fa questo parkour teoricamente in almeno un minuto dovrei riuscire a farlo perché adesso so di avere tanto più tempo a disposizione! Ce la devo fare! Non posso assolutamente sbagliare questo salto! È l'ultimo salto! Siete pronti ragazzi? 3... 2... 1... Ok ce l'abbiamo fatta! E poi qua! Oh mio dio l'abbiamo finito! Finalmente! Non ci posso credere! E stai scherzando? Io ora devo fare un labirinto sott'acqua? Ma tu mi vuoi male allora Billy! Mi vuoi veramente male! Vuoi che io non completi mai questa mappa? Ok continuiamo in questo modo allora! Ricordatevi sempre la regola della destra ragazzi! Andate sempre a destra quando potete! Quando non potete tornate indietro e tornate a destra! Quindi allora qua è bloccato! Dobbiamo continuare qua! È bloccato pure! E allora dobbiamo tornare indietro! Oh ok si completava in questo modo! Bene bene bene! Adesso atterriamo dove? Oh un altro livello! Uh le scale! Mi piacciono le scale! Dobbiamo salire sulle scale! Ok mi piace questo livello molto semplice! E poi l'abbiamo finito giusto? No non l'abbiamo finito! Ok attenzione! La pietra in qualche modo può ucciderti! Cosa? Che vuol dire? Ok qua abbiamo delle litra! Ottimo! Quindi se la pietra può uccidermi presumo che io debba buttarmi là sotto! Non mi piace questa cosa! Non mi piace per niente! Eh ok! Non sono morto in qualche modo! Continuo a non morire! Perdo dei cuori! Però non muoio! E soprattutto io faccio schifo con le litra ragazzi! Non l'ho mai utilizzata in vita mia! Oh mio! Ok! Ce la possiamo fare ragazzi! Abbiamo superato tre dei livelli più difficili del mondo! In assoluto! Via 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 via! No! Ma ce l'avevo quasi fatta! Ok! L'abbiamo capito tutti quanti! Questa mappa non mi vuole bene! No 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 no! Questa mappa mi odia anzi! Mi odia di brutto! Guardate! Non è possibile finire questo livello! Oh oh oh! Aspettate! Mi sono buggato! No! 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 Ero arrivato! Mi ero buggato in qualche modo! In qualche modo io mi ero buggato ed ero arrivato sulla terra! E sono abbastanza sicuro che se atterravo sulla terra non sarei morto! Non ci posso credere! Non ci posso credere! È finito il tempo di nuovo! Ragazzi! Io spero vi sia piaciuto questo video in questa mappa che purtroppo non sono riuscito a finire perché il creatore mi odia tantissimo! Vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace perché io mi sono divertito tantissimo! E se anche voi volete giocare questa mappa troverete il link qua sotto in descrizione! Seguitemi su Instagram! Iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti! Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video! Ciao!